Oh ma Ricci, alla fine chi ha vinto il Fanta Sanremo nostro? Secondo te? Secondo me... La Cri! Eh no, il Dottor Provera! Bravo, 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 bravo. Ricci, anche se non stai bene, grazie, grazie perché è arrivata l'ora del TG Sim. E quindi... Vai con la sigla! Ciao e benvenuto a questa nuova edizione del TG Sim, partiamo subito forte e usciamo da Novara. Riferimento 85-94, siamo a Loreto, il soborghino di Oleggio. Se quello che cerchi è un appartamento con giardino, questo trilocale è perfetto per te. Un trilocale in un contesto piccolo, condominiale del 2009, senza lavori da fare, garage, taverna, portico e il tuo fantastico giardino in proprietà esclusiva, 179 mila euro, ti seguirà Federico. E io invece vi riporto a Novara con 24 soluzioni abitative, tra i 60 e gli 85 metri, quindi avete una scelta bassissima sulla misura, ci troviamo in Via Alcarotti, ottima scelta, come dicevo se vuoi, la tua prima casa perfetta, se vuoi generare reddito dalle tue proprietà, condominio completamente ristrutturato a nuovo nelle parti comuni, gli appartamenti sono da personalizzare. Te li vende il dottor Stefano Bisatti. Prezzi, prezzi? A partire da 95 mila euro. A partire da 95 mila euro, ragazzi. Riferimenti? In San Martino. San Martino? San Martino, campana. Vai, riferimenti? 8596, 8597 e 8598. E 8595, lo spoiler di oggi, sono entrati due quadri locali, che sai, come ben sai, il quadri locale su Novara è sempre una fantastica mosca bianca, uno in San Paolo, uno in Porta Mortara. Preparati. Con cosa chiudiamo, Ricchi? Ricordo gli open house di sabato 17, in primo ci vedremo a Sologno per vedere la bellissima villetta del mio amico Manu e dopodiché ci vediamo a Pernate per vedere il bellissimo attico di Riccardino. Grandissimo. Bene, speriamo che anche questa edizione del TG Sim di oggi ti sia piaciuta. Attenzione, c'è una news. Salutiamo la nostra Veronica che è via per lavoro, oggi il TG Sim non è un TG vero, ma è un TG Simo, perché il nostro regista è stato il capo, grazie Simonetta, alla prossima edizione del TG Sim, ciao!